tutti a chi sta guardando questa intervista oggi intervistiamo andrea nostro studente che ha frequentato uno dei nostri percorsi e che se è qua è perché ha qualcosa da raccontare magari qualche risultato da di cui parlarci quindi oggi intervistiamo andrea e vediamo un attimo la sua storia come è iniziato con noi cosa è successo e così via quindi andrea passo subito la parola a te se ti vuoi presentare se vuoi dire magari un attimo chi sei qualcosa su di te esatto ciao a tutti e per chi sta guardando questa video recensione e vabbè io sono andrea e prima di iniziare il percorso con sam e tommaso ero metalmeccanico avevo il mio contrattino a tempo indeterminato da quattro anni e mezzo e ebbi la bella idea di abbandonare totalmente quello che era il mio vecchio lavoro e fare un po un salto che da molti può essere visto come un salto nel vuoto che però ahimè a 24 anni quello che mi spaventava di più era rimanere a tempo indeterminato in quell'azienda sotto casa piuttosto che magari intraprendere una carriera professionale mia dove chiaramente il il compenso è direttamente proporzionale all'impegno che vai a dedicare poi a quella che è la tua mansione certo quindi per quanto sì vai tommi dimmi sì quindi dicevi quattro anni tu era da quattro anni che avevi questo lavoro comunque a tempo indeterminato tra l'altro vicino casa vicino casa al classico posto fisso a un minuto da casa a piedi io iniziavo alle otto potenzialmente mi potevo svegliare e recapitato a 5 il sogno il sogno degli italiani fantastico ok straordinari vuoi pagati pagamento sempre preciso quindi da quel punto di vista non mi potevo lamentare però insomma poi chiaramente bisogna capire quali sono le ambizioni di ciascuno di noi quindi è chiaro che se volevo arrivare a guadagnare 10 mila euro al mese quello che non mi avrebbe permesso certo diciamo che non ti potevi lamentare però il tuo obiettivo non era semplicemente fare una vita senza lamentarsi ma fare una vita di un livello un po più alto esattamente quindi non lamentarti non era più sufficiente volete proprio quello step in più mentre molte persone ad oggi cercano solamente la vita tranquilla senza appunto la mentele quello che cercavi tu era qualcosa in più come in realtà anche fanno e vogliono trovano più paura di fare il passo per cercano comunque diciamo diciamo che poi era già un po di tempo che ci pensavo ho provato ad interfacciarmi anche con altri business informarmi poi l'unico sulla quale sono andato un po più a fondo è stato il trading ad esempio la bull under delle criptovalute me la sono fatta tutta poi sono anche riuscito a bruciare tutto quindi diciamo che che insomma poi poi quello è un altro discorso però realmente poi mi sono interfacciato con voi tramite il mio miglior amico carmine che peraltro fa il venditore anche lui adesso e insomma abbiamo fatto abbiamo preso questa scelta insieme ok abbiamo abbandonato entrambi il lavoro a tempo indeterminato e poi la sera ci siamo visti abbiamo commentato un po' come è stata l'entrata nell'ufficio per dare le dimissioni bellissimo bellissimo che storia è beccato perché oggettivamente prima volta che succede ma non dico uguale identico ma un po rivedo me tommy che da amici da una vita migliori amici conosciuti anni e anni fa insieme ha detto ok basta mandiamo la lettera io al Politecnico l'Università di Firenze facciamo questo passo insieme quindi figo fighissimo sì sì bellissimo assolutamente anche proprio il fatto poi di vedersi la sera e raccontare proprio l'esperienza come stato entrare in quell'ufficio che tremi quasi prima di entrare poi in realtà insomma dai libero sfoga quello che vuoi dire e te ne vai ecco qui qui mi viene in mente quello che direbbe frank gramuglia quando entrerebbe nell'ufficio e quindi cioè ora prima di andare a parlare poi di tutti i risultati che comunque primi risultati che stai ottenendo che sono sicuramente molto interessanti quindi poi andremo ad approfondire anche quel discorso lì però sarebbe figo approfondire anche le sensazioni che provavi proprio nel momento in cui ti sei perché hai preso una decisione di staccarti dal tuo lavoro come dicevamo prima il classico sogno che potrebbe avere una persona normale il posto fisso così tempo indeterminato vicino a casa che emozioni provavi cioè tu qual era l'obiettivo che ti hai rifissato se solo economico se anche da un punto di vista di libertà effettivamente quando poi hai preso quella decisione dovevi prendere quella decisione di lasciare cioè paura ansia cioè cosa vivevi in quel momento? allora io in quel momento ecco la mia è stata un'esperienza un po' particolare perché allora cosa è successo? io mi ero fatto le spalle forti abbastanza forti economicamente grazie al trading con le criptovalute insomma mi ero fatto le spalle forti da quel punto di vista quindi la cosa mi aveva aiutato e quindi da quel punto di vista siccome era una cosa che desideravo da tanto fare il venditore sotto sotto mi è sempre un po' piaciuto allora quando ho trovato questa occasione davanti poi mi sono informato ho fatto la call insieme a Matteo il vostro collaboratore e nel frattispecio poi mi ha conquistato e sono entrato ok e quando presi quella decisione diciamo che fin da subito poi avevo in mente di dire perfetto poi coincidenza vuole che per giunta non girava una buona area in azienda come uno dei responsabili allora ho colto la palla al balzo e ho detto tanti saluti me ne vado e allora cosa provavo? non vedevo l'ora di iniziare il percorso non vedevo l'ora di mettermi in gioco di essere padrone finalmente di nuovo del mio tempo e di alzarmi anche più presto la mattina ma per inseguire è un mio obiettivo io ho lasciato il mio lavoro a tempo determinato dove mi potevo svegliare alle 7.55 adesso mi sveglio alle 6.15 certo ma non perdono perché tu vuoi svegliarti alle 6.15 io voglio svegliarmi alle 6.15 allenarmi presto al mattino iniziare a lavorare ok e lavorare potenzialmente dopo alle 19 c'è una call perché voglio fare quella call non vedo l'ora di guadagnare anche su quella call di aiutare una persona perché quando vendi aiuti le persone se io vendo un prodotto un servizio che costa 4.000 euro e quella persona è disposta a spendere quei 4.000 euro che si è sudata ok è perché per lei per quella persona che i 4.000 euro valgono meno del servizio che gli sto offrendo certo per me quindi sostanzialmente quello che provavo era fame fame di iniziare poi diciamo che ho fatto un percorso un po particolare perché io ho intrapresi un percorso con un'azienda con diverse aziende che non mi potevano dare un guadagno nell'immediato quindi ho preferito intraprendere un percorso per continuare ulteriormente la mia formazione plasmarmi ok e prendere anche porte in faccia da clienti senza problemi per questo proprio nei primissimi primissime esperienze mentre invece potevo anche andare un'azienda dove mi arrivano subito gli sprofilati cioè voi devo dire che insomma siete molto siete veramente in gamba per quanto riguarda la fornire aziende perché le date avalangate non mancano non mancano le aziende non mancano da quel punto di vista non sono mai mancate anche ai mai vi devo dire se ad oggi voglio ricercare un'azienda insomma vado a ruba non sto scherzando vado a ruba nel senso che c'è veramente si farebbero la lotta tra di loro per assumere un venditore ok per collaborare con un venditore che ha anche solo pochissimi mesi di esperienza si vogliono dire a tutte quelle persone che pensano ah cazzo nessuno cerca lavoro ah no nessuno ma cercano le aziende e in realtà non è che le aziende non cercano collaboratori le aziende cercano collaboratori giusti che servono a loro e quello che serve al giorno d'oggi ovviamente non è quello che serviva 30 anni fa quindi è normale che evolvendosi tutto quanto si evolvono anche le figure ricercate dall'azienda ora saper vendere saper vendere al telecom videochiamata comunque a distanza quale azienda non dovrebbe volerlo esatto che è soprattutto e quindi ovvio che si sia super ricercati anche con un'esperienza non di dieci anni ad ogni modo proseguendo quello che è successo questo appena prima di iniziare la mia prima esperienza con un'azienda è stato che ho bruciato totalmente ok proprio a un passo avevo per farvi capire 200 euro sul conto ho bruciato tutti i miei risparmi con una singola operazione ok per quanto riguarda i miei investimenti questo dato dal dall'inconsapevolezza in quella in l'altro tipo di lavoro e questa è stata una cosa che mi ha mi ha dato una scossa ha dato una scossa mi ha fatto capire che dal di lì volevo diventare il numero una strada infinita è lunga ma diventerò il numero uno cioè devo diventare il più forte in questa azienda se serve cambiare poi diventerò il più forte in un'altra azienda ok ma ecco questo è sempre stato un obiettivo ho potuto collaborare confrontarmi con realtà di un certo livello ok dalle quali ho imparato davvero tanto le quali inizialmente non ho preso una retribuzione economica ma forse qualcosa che vale ben più di pochi migliaia di euro ovvero la formazione il fatto di metterti in gioco e confrontarti con persone di un certo livello quindi io anche un consiglio che posso dare chi sta guardando questo video è di quindi specialmente siccome stiamo parlando di una carriera tutti gli effetti non guardiamola soprattutto nei primi mesi con l'idea di guadagnare 3.000 euro 4.000 euro fin da subito è possibile assolutamente sì abbiamo già avete più che altro numerosi casi di successo ma insomma sono anche miei amici perché poi ci siamo abbiamo studiato insieme che sono andati in azienda che effettivamente gli hanno permesso di guadagnare anche fin da subito 3.000 euro quindi lì lì ottimo chiaramente io la scelta che ho fatto l'ho fatta consapevolmente è stata quella di andare passare prima da aziende che mi dessero un valore aggiunto proprio come venditore fino ad arrivare all'azienda dove sono oggi azienda che non mi avete passato voi che sono riuscito a trovare da solo grazie al metodo che mi avete insegnato su come ricercarle ok e sostanzialmente mi sto trovando bene mi stanno dando spazio per crescere e mi ha fatto mi ha permesso di chiudere il contratto più grande mai venduto in quell'azienda 40.000 euro hai chiuso un conterato da 40.000 euro esatto esattamente in 45 minuti praticamente mille euro al 9.000 euro direi direi non male direi non male faccio un passo indietro su quello che hai detto prima che era una cosa che non meritava di essere evidenziata parlai prima di patrick e di 6 process cioè la figata di apprendere skill ricercate al giorno d'oggi e cavolo entri in contatto in collaborazione con realtà di un calibro non indifferente 6 process è un'azienda in questa soluzione guardola quindi non è l'ultimo arrivato sa il fatto suo e quindi a livello formativo a livello di crescita personale ti tempra per diventare realmente un'altra persona non è che tu sai che ne so caricare il toner della stampante ok senza nulla voler togliere però difficile che magari vai in collaborazione vai ad affrontare alcuni argomenti con persone di questo calibro quindi avendo un'abilità molto richiesta e molto pagata e molto importante vai a relazionarti con realtà che insomma esatto per rispetto esatto infatti ecco da 6 process ho imparato tantissimo poi la collaborazione lì si è interrotta ma non perché insomma non per colpa loro non per colpa mia semplicemente perché mi sono reso conto che ecco in quel momento ho appreso tanto da 6 process allo stesso tempo però sapevo che non ero ancora pronto per lavorare a quei livelli chissà magari già parlato con alberto ci siamo confrontati chissà che in futuro ecco non avrò modo di tornare però se tornerò lì sarò alla pari di patrick biacco quindi che si tenga pronto nel tempo perché perché avrò bisogno di spazio da quel punto di vista e ora come ora invece con questa azienda stando molto bene perché mi lasciano spazio siamo si sta già parlando eventualmente di farmi diventare il sales coach ok e con questa azienda non so ci vuoi descrivere perché sono sicuro che le persone che magari hanno sentito questa affermazione 45 40 mila euro in 45 minuti quasi mille euro al minuto così li stanno fumando le ricche no che cosa è questo sta dicendo una cavolata non è vero sei un attore l'hanno pagato e tutte queste cose qua quindi magari senza entrare troppo nei dettagli perché giustamente non so non abbiamo neanche chiesto ma magari non hai piacere a fare pubblicità l'azienda per cui lavori magari quindi senza entrare in dettagli ho molto piacere a fare pubblicità per cui lavoro ok perfetto allora ti chiedo raccontaci un po' magari in che settore opera cioè se ci vuoi di come è andata la chiamata che tipo di prodotto più o meno hai venduto allora ecco l'azienda in questione è molto simile al sales process nel senso che si occupa di marketing in maniera verticale proprio di marketing per quanto riguarda le aziende e i libri professionisti in ambito wellness ok lì ci riferiamo palestre esatto palestre personal trainer e quello che facciamo che offriamo sono due tipi di servizi a partire dal dfa che è un servizio di affiancamento di formazione affiancamento per quanto riguarda il marketing ok affiancamento anche one to one un percorso davvero ben studiato con pacchetti che partono dai 1.500 euro arrivano anche fino ai 4.500 euro poi lì si possono comporre per salire anche ulteriormente però non vanno mai e mai veramente sotto i 1.500 euro quindi parliamo sempre di high ticket poi abbiamo il servizio mentorship che parte da una base di 1.500 euro mese quindi se fate anche due conti al volo sono 18 mila euro in un anno ok percorso di solito che si propone proprio quello annuale fino ad arrivare anche dove vogliamo perché dipende anche dall'azienda che c'è dall'altra parte ho venduto 40 mila euro nell'altra parte c'è una palestra che mi fatturava 300 mila io ho fatto vedere in 40 minuti come arrivare a un milione e caspita ti faccio vedere come passare da 300 mila euro a un milione nei prossimi 12 mesi mi dai col sorriso 40 mila e risolvi un problema soprattutto esattamente esattamente e quindi da quel punto di vista ecco questo è un lavoro davvero davvero motivante da svolgere perché effettivamente si stai guadagnando ma entriamo nell'ottica chi sta guardando questo video che che più vendete ok più vendete e più realmente fate del bene alle persone più avete un impatto positivo sulla società e perché perché effettivamente stiamo risolvendo un problema di quella persona ecco per quanto riguarda poi c'è la parte embrionale una fase teorica del vostro percorso di affiancamento quindi dove ci sono proprio delle video lezioni ecco quelle video lezioni sono oro sono oro veramente perché ci sono dei concetti che sono stati selezionati che poi nel lato pratico tornano veramente utili tornano utili in ogni aspetto in ogni punto della linea di vendita adesso non voglio andare troppo in tecnici perché sennò poi chi ci ascolta non capisce veramente però anche perché poi le persone sono curiose sono curiose di avere sempre più dettagli quindi sicuramente anche il fatto che hai comunque scelto di poter parlare anche più nel dettaglio dell'azienda con cui collabori tutto quanto il settore può essere sicuramente interessante quindi tu hai detto che ora sei il venditore possibilmente magari un futuro a breve termine sales coach di un'azienda che comunque si occupa di marketing in particolare marketing e tutto quello che riguarda il business magari del del settore wellness quindi palestra nel caso in cui del cliente chiuso del tuo è chiuso una palestra che fattura 300 mila euro all'anno giusto e questo pacchetto qua che hai venduto tu l'hai venduto attraverso un perché magari la persona dice l'appuntamento dal vivo una chiamata una videochiamata qual è la se vuoi dire anche magari di questi 40 mila euro vanno in tasca a te come funziona cioè vanno in tasca all'azienda te riprendi una parte allora vado per step questo contatto l'ho chiuso in video con non in chiamata normale siamo visti in videochiamata e così che c'è anche un discorso di face to face e dal di lì poi ho mostrato diverse cose condiviso anche lo schermo quindi torna comodo anche per quel da quel punto di vista ecco sicuramente magari è possibile vendere anche 40 mila euro al telefono senza fare la video call ancora non ho mai visto fare non ho mai sentito però sicuramente è possibile perché con le parole con le domande soprattutto possiamo far pensare veramente tanto le persone dalle di tanto valore che sia successo poi ovviamente dipende anche dal settore magari un tuo è una struttura che si che era più indicata per vendere videochiamate quant'altro l'importante è che non hai dovuto metterti le scarpe scendere prendere la macchina e andare a vendere in un luogo fisico ecco assolutamente sono rimasto da casa anzi ora come ora vi dico proprio prima di entrare in call con voi avevo finito di fare un'altra colla alle 17 30 e stavo cercando un ufficio dove andare a lavorare perché attualmente lavoro nella mia camera va bene ma adesso che sta iniziando comunque ad avere delle entrate abbastanza buone vorrei andare a lavorare in un ufficio per fare un ulteriore upgrade essere ancora più motivato e fare il prossimo next level non ti interrompo continua quella di prima sì 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 allora ecco l'ho chiuso appunto in video call l'ho chiuso in video call poi lì chiaramente dipende dall'azienda all'azienda no io ad esempio in questo caso ho venduto sì 40k però l'ho venduto in qualche rata ok quindi dopo subito di impatto tutto ma entra c'è un contratto di mezzo ok sì non è un me li dai no stava pagato immagino una prima parte e poi è scaglionata nei mesi caspita sto signore ha pagato un monolocale cioè voglio dire diciamo che un contratto di mezzo tutto che tutte di lui e l'azienda c'è e cosa prendo io prendo il 10 per cento ok prendo il 10 per cento vuol dire che poi la vendita mi ha fatto guadagnare 4k ho detto in maniera molto diretta poi questo è anche da contestualizzare da verificare perché se il contatto me lo cerco io è del 20 per cento e chiaramente cercare io non vuol dire che faccio call a freddo poi si possono anche fare però vuol dire che seguo un metodo che l'azienda ha messo a disposizione perché se l'azienda è un'azienda seria anche sono una strategia di marketing alle spalle ok ti segue anche sulla parte outbound quindi anche per l'outbound prospecting come cercare quindi nuovi clienti nel momento in cui ti mette a disposizione queste cose ti insegna a metterle in pratica e poi le metti in pratica se trovi un contatto per conto tuo quindi al di fuori del marketing aziendale ecco giustamente l'azienda e questo nel 100 per cento dei casi sono interfacciato con diverse aziende ti dà una percentuale più alta ad esempio nel mio caso un 20 per cento adesso voglio dire vi posso garantire che insomma l'auto per quanto riguarda l'outbound andare lì fuori trovi molto più facilmente dei proprietari di palestre piuttosto che personal trainer ok mentre per quanto riguarda il marketing interno dell'azienda arrivano tanti pt ecco facendo outbound puoi andare a procacciare direttamente dopo le palestre e chiudere un 40k e sono sicuro che prossimamente arriverà pure quello però facendolo prendendolo in maniera autonoma da un outbound vuol dire che guadagni 8 mila euro 40 minuti di chiamata 8 mila euro non sarebbe male invece chi non ha voglia di cercarsi il contatto c'è questa questa palestra qua non non l'hai trovata tu giusto c'è ti è stata passata direttamente all'azienda al contatto esattamente ok come funziona c'è la quindi è un contatto possiamo dire caldo possiamo dire potenzialmente interessato al già sere informato come descriveresti magari l'approccio che aveva la persona allora ecco a dal proposito apro due parentesi in una parentesi ci mettiamo le persone che arrivano direttamente dal marketing aziendale che si sono magari registrate per guardare un webinar quindi si sono profilate ma non hanno prenotato la demo call possiamo chiamarla quindi la consulenza tutti gli effetti in quel caso vanno chiamati ciao nome piacere di conoscerti sono andrea di social feed ok e ti chiamo però ho visto che ti sei registrato al webinar ok perfetto da lì instauri un rapporto vai cerchi di capire un attimo quello che può essere la sua situazione attuale un problema eventuale e vai capire che hai la soluzione nome c'è la soluzione la vuoi fare una chiamata con me che così ti faccio capire come risolvere il tuo problema col ok altra parentesi quella che abbiamo lasciato un attimo da parte prenota in maniera automatica c'è in maniera autonoma ok quella che è la consulenza e quindi deve e li trovi direttamente poi in demo call ok ok chiaro quindi questo caso in questo caso scusa tommy questa persona poi ho venduto 40 mila euro aveva guardato il webinar non si era registrato ok e semplicemente l'ho chiamato perfetto il proprietario di palestra poi mi ha fatto subito capire quali erano i suoi problemi ho la soluzione prontiamo una chiamata venduta così ti spiego come risolvere chiamata venduto gli ho dato la soluzione meglio di così no è chiarissimo anche quello che dicevi prima c'è realmente che le persone davvero non lo capiscono perché c'è sempre molto questa mentalità negativa riguardo al venditore il venditore è no è quello che ti sta addosso è quello che pressa è quello che truffa cavolo se io ho una soluzione che può risolvere al cento per cento il tuo problema e sono un venditore la cosa migliore che posso fare è venderti la soluzione perché ti aiuto quindi realmente vendita significa aiutare per davvero non è solamente il titolo di video youtube che mettiamo ma è la verità guarda proprio prima mi è arrivato uno screen da una mia collega che lavora anche nel primo operativo e mi ha mandato uno screen appunto di questo ragazzo al quale ho fatto un upsell l'altro giorno e già sta avendo i suoi risultati nulla di più gratificante cioè è una situazione terribile mi arriva uno screen di lui che finalmente sta ottenendo risultati wow ok cioè è un po' come nel vostro caso no sono entrato ok mi sono messo in gioco ho speso una cifra non bassa ok non basta perché non costate poco lo dite anche voi e sarebbe strano il contrario perché effettivamente io mi sono messo in gioco ho messo del commitment poi chiaramente però quando voi vedete i risultati che un vostro cliente riesce ad ottenere caspita è motivo d'orgoglio al di là dell'aspetto economico mi rendo conto che va proprio al di là dell'aspetto economico sono passato da voi e adesso faccio lo stesso lavoro che fa Matteo ok il vostro collaboratore che mi ha portato di dentro e capisco che cosa prova cosa può provare Matteo cosa può provare Federico cosa potete provare voi per vedere poi i risultati miei di Davide piuttosto che di Giuseppe e quindi di persone ecco sono tutte io li sento costantemente anche Samantha per dire perché poi avevo creato quel gruppo dove facevamo roleplay ci divertivamo e studiavamo insieme top grande fighissimo no bellissimo perché hai centrato in pieno tutto al 100% un conto è guadagnare e fare soldi che sicuramente è bello e giustissimo un conto è guadagnare realmente portando del bene alle persone del valore aggiunto alle persone che è una cosa per niente scontata da sottolineare sempre perché hai centrato in punto poi hai fatto anche l'elenco di un po' di persone che tu conosci che senti regolarmente che comunque stanno tenendo tutti quanti risultati quindi dici wow wow esatto 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 ecco infatti sì assolutamente siamo sempre in contatto proprio per un confronto ed è bello sentire come tutti effettivamente abbiamo stiamo cambiando totalmente quella che è la vita quella che è la nostra vita perché poi il percorso è lunghissimo cioè io parlavo con il mio imprenditore l'altro giorno cacchio glielo ho detto cioè preparati mi devi stare dietro devi preparare assumere altre persone del team operativo perché cioè quello che ho fatto il mese scorso non è niente io nel 2023 voglio far fatturare un milione di euro all'azienda il percorso ripeto è lungo far fatturare un milione di euro all'azienda vuol dire che in un anno ti porti a casa 100 mila euro se guadagni il 10 se guadagni il 20 anche di più è il momento in cui poi fai vedere che effettivamente hai voglia di metterti in gioco e di darti da fare ecco l'azienda ti mette ti da tutte le carte in tavola per ottenere poi quei risultati ok ora proprio a fronte anche del nuovo team vendita che si è creato nell'azienda per cui sto lavorando ecco investito 100 mila euro sia per quanto riguarda l'aspetto marketing che vendita ok per darci un plus pure a noi e questo questa vuol dire carriera professionale ok crescere nel tempo sì 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 è fighissimo anche perché davvero molte persone sono sempre portate a non vedere a non ambire una crescita nel lungo termine a pensare sempre a quello che faccio oggi quello che faccio domani quello che guadagno oggi quello che guadagno questo mese ma non pensare a le prospettive future che ci sono che realmente è un brutto da dire però se tu non ti crei le circostanze per avere delle prospettive future è anche difficile averle ok è comprensibile perché tutti vivono sempre situazioni in cui le prospettive di crescita sono ridotte al minimo ok persone che fanno mesi 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 anni di lavoro e dopo x anni che aumentano di 100 euro lo stipendio dici cavolo ma questa è la crescita che posso avere magari in 30 anni di lavoro avere a fine dopo i 30 anni 500 euro in più cioè che crescita posso avere qua cavolo hai parlato in tre minuti hai tirato fuori più prospettive tech e chiunque altro perché hai la possibilità le carte in tavola di vedere lungo poter vedere lungo poter capire quello che succederà eh sì e siamo l'hai detto esattamente hai colpito il segno nel senso che io qui sono libero di ambira qualsiasi cifra quello cioè se io tra cinque anni vendo pacchetti che costano un milione di euro l'uno e ci sono ci sono di fuori io posso posso guadagnare un milione di euro l'anno cioè ne devo vendere 10 10 per cento ne rendo 10 ora è chiaro comunque bisogna andare per step però ecco ad esempio io sto facendo una cosa che comunque ho preso anche in diversi percorsi però adesso iniziato a farla ok può sembrare anche stupido agli occhi di qualcuno invece può sembrare molto intelligente agli occhi di qualcun altro scrivere l'obiettivo che hai in mente da qui a un mese da qui a un anno da qui a tre anni tutti i giorni quando vai a dormire e quando ti svegli al mattino certo caspita ma come fai a fare una cosa del genere lavorando come operario in un'azienda che che obiettivo economico mi posso mettere fra tre anni voglio guadagnare anziché 1.500 1.600 euro sì 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 e questo è fighissimo mi ricollego anche a quello che dicevi prima sugli altri studenti che appunto senti costantemente quant'altro è bellissimo sapere pensare che comunque tutti i conti senti partiti da una base diversa perché è un dato di fatto non eravate tutti fatti con lo stampino da una base diversa con una base che era la stessa perché era un percorso formativo che ti portava da x a y e quindi con percorsi diversi ma con la stessa base avete raggiunto obiettivi diversi e sarà così anche per le prospettive future ognuno di voi ha degli obiettivi che magari non saranno gli stessi non tutti vogliono fare x ma magari altre persone vogliono fare qualcos'altro però tramite la stessa base che è una base che sembra scontata ma sapersi vendere ragazzi è tutto tutto quello che avete intorno nella vostra stanza questo telefono il computer qua e l'hanno venduto quindi saper vendere la base con quello puoi permetterti questa cosa qua al di là di quanto ogni persona sia fondamentalmente diversa esatto esatto sono pienamente d'accordo la vendita è tutto anche nei rapporti umani migliori la qualità dei discorsi riesce a percepire più valore in quello che dici ok c'è alla fine noi vendiamo sempre e lo dici lo dici anche te in una video lezione noi vendiamo da quando siamo nati che vendiamo da quando siamo nati e il discorso è che sapersi vendere ti permette di avere più risposte positive ok alla fine quando noi compriamo qualsiasi cosa dal cellulare alla borraccia che utilizzo tutti i giorni e la scritta quello che abbiamo davanti al valore percepito prezzo ok per forza quindi se il prezzo più basso del valore percepito riusciamo ad ottenere un sì ma se ci pensi veramente la gente lo sottvaluta ma tutto quanto è vendita tutto quanto è comunicazione guardi la tv cavolo è netflix deve essere bravo a mantenere il valore che ti dà in cambio dei soldi che li pagano in singolo mese così sky così tutte le altre piattaforme qualsiasi film su un canale deve essere bello perché ti vende la tua permanenza su quel canale e vai al bar il barista ti vende qualcosa deve essere bravo se ti senti patico non vai quindi devi vendere se stesso e il suo prodotto i cantanti vendono la loro immagine cioè è tutto vendita un cantante io per esempio sono fan di tedua io sono suo fan non solo perché mi piace come canta perché lui si vende bene mi piace la sua comunicazione suo personaggio e quindi è tutto vendita non è non si può ridurre a una skill a caso tutto quanto vendita esatto e vendere vendere insomma è davvero gratificante è davvero gratificante è una sfida continua con te stesso ok poi va bene deve anche insomma deve anche piacerti cioè io quello che penso è che chiaramente una persona che non è non è ambiziosa non è minimamente motivata che faccia bene fa bene a rimanere ecco per la vita da dipendente attenzione e però allo stesso tempo quello che dico se siete ambiziosi ecco qui mette di gioco qui mette tra gioco e ogni volta che inizia mi ricordo una cosa che disse patrick una volta io quando inizia una consulenza vedo vedo nero prima io vedo nero elimino tutto quello che c'è prima qualsiasi emozione esterna io ho in mente che devo devo superare nel senso chiudere quella con sulla colla questa cosa qui è troppo è veramente davvero fantastico provare questo tipo di emozione sensori iniziare una call essere dare cioè essere lì che pensi caspita devo dare il massimo per fare meglio della precedente ok pure ho riascoltato la mia colmi sono accorto che ho fatto quegli anni mi ricordo poche forse una settimana e mezzo prima di fare la vendita 40k avevo scritto sul gruppo che raga caspita stando bene sono tenendo i miei primi risultati però veramente non riesco a chiudere trattative che magari costano un po di più come quelle da 5 mila al 6 mila euro e vabbè chiaramente poi il fede mi aveva dato un consiglio poi ho risposto anche dicendo comunque non c'è problema adesso riascolto tutte le call e arrivò un dunque arrivò una soluzione da lì una settimana e mezzo col da 40k chiusa e un'altra ne ho chiusa a 7500 euro un'altra 6 mila e quindi insomma non vale un male direi esatto 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 no esatto elemento fondamentale che diceva anche tu prima che si non avete motivazione se avete obiettivi è tosta cioè non siamo non possiamo trasformare una persona che non ha nulla che voglia raggiungere una persona che raggiunge qualcosa che non sa cos'è ok quindi è ovvio la base di tutto è essere persone che sanno cosa vogliono e non è scontato cioè capite cosa volete poi raggiungere perché se cercate di raggiungere qualcosa che è un qualcosa che non sapete nemmeno voi cos'è non potete mai raggiungere cosa sai che non sai cosa vuoi raggiungere è impossibile quindi è il minimo comune denominatore per forza di cose voglio andare a napoli ciò che voglio andare a napoli bene poi vediamo la strada che c'è da percorrere mentre l'ambiente dice dove andare però devo sapere che voglio andare lì se no il mio obiettivo è trasferirmi a mannattano perché la mia città del cuore sono folle menti nella parte di quello perfetto mi devo creare la stabilità a livello personale professionale per potermi permettere una vita monata e so i passi da fare per andare a vivere lì se non so dove voglio andare non so che passi posso fare imposti come dicevi prima la destinazione sul navigatore e il navigatore ti dice ok gira a destra a sinistra ti spiega lui cosa fare anche a livello mentale con gli obiettivi deve essere così imposto un obiettivo alla mia destinazione una volta che so dove andare so i passi e gli step da fare per andarci se no è possibile esattamente esattamente grande grande si è adesso adesso esatto quello che ho in mente è veramente fare un ulteriore next level perché comunque abbiamo appena iniziato ecco abbiamo appena iniziato per questo mese mi ero prefissato l'obiettivo di raggiungere i 2k poi successo qualcosa di più però il mese questo mese quindi novembre sicuramente un obiettivo perdonatemi le notifiche ma è un obiettivo che è ben più alto quindi step by step però bisogna sempre salire e questo nei lavori tradizionali non è possibile infatti sicuramente molte persone che sentono queste parole anche il ragionamento che hai fatto prima giustamente ovvero il fatto che tu volendo nessuno ti vieta di in un futuro vendere prodotti veramente da milioni di euro e quindi rendere quasi infinite o i soldi che puoi effettivamente guadagnare ed è una cosa assolutamente vera molte persone potrebbero pensare sì ok però se è così facile lo farebbero tutti infatti invito a ragionare su quello che ha fatto andare a su nel suo percorso perché non ha fatto assolutamente niente di facile ha detto che dopo una call che si sveglia due ore prima rispetto a quando si svegliava prima che ha dovuto lasciare un lavoro del tempo indeterminato così quindi penso che ci puoi confermare andrea che tutto già neanche facile questa roba assolutamente assolutamente cioè parliamoci chiaro c'è da farsi un culo della madonna e poi poi è chiaro che insomma dipende dal percorso che si vuole intraprendere ricollego a quello che dicevano all'inizio di questa chiacchierata effettivamente ci sono aziende dove insomma sei un attimo più adagiato chiaramente mila euro nel mondo della vendita non sono tanti sono tanti per un lavoro da dipendente sono tantissimi ma nel mondo della vendita non sono tanti 3.000 euro se volete fare 3.000 euro in maniera insomma non dico semplice che comunque vi dovete impegnare a prendere le competenze e metterle in pratica però a 3.000 euro potenzialmente potete arrivare a guadagnare senza svegliarvi alle sei del mattino mentre se invece avete in mente e sono sicuro cioè almeno nella maggior parte dei casi poi sono persone intraprendendo questo percorso percorso perché ambiziose se ambiziosa per non si accontenterà anche di 3.000 euro quindi di conseguenza se si vuole arrivare a un next level successivo che arrivare un obiettivo più grande sicuramente ecco perché arrivare a guadagnare 10.000 euro al mese chiedete a chiunque che guadagna 10.000 euro al mese se non si fa il curo ok cioè c'è ma proprio non può esistere una cosa guadagni 10.000 euro e non fai niente quindi quello assolutamente però insomma fare un lavoro dove insomma ti autogestisci quindi se io domani non voglio oggi devo dire ho avuto una giornata molto tranquilla ieri mi sono ammazzato di lavoro oggi anche se prima ho detto alle 7 in teoria c'ho una call che peraltro mi ha rimandato diventata 7 un quarto vabbè però però chiaramente quello che che voglio dire io oggi ho fatto una giornata tranquillissima ho lavorato forse tre ore in totale perché è dei un attimo off avevo poche prenotazioni magari mi sono guardato sto continuando a formarmi quindi comunque continuo a fare formazione quindi in una giornata dove magari voglio tenermi un attimo più libero più tranquillo continuo a fare formazione a diventare sempre più bravo fai l'ascolto delle colle caspita però il giorno domani già lo so mi sveglio alle 6 e dalle 6 a fino a quando non muoio che non sono stanco ok mi darò da fare finché non ho ottenuto magari un risultato che voglio tenere questa è ambizione è pure ambizione quindi nulla ritorno sì la cosa la cosa figa che mi è piaciuta prima era il discorso in cui dicevi cavolo per un lavoro dipendente 3000 euro sono tantissimi ed è vero cioè c'è questo problema in cui molte persone troppe persone collegano il quanto guadagni con il quanto lavori e troppe poche persone mettono in paragone il quanto guadagni con il come lavori molti pensano che apri guadagnare se è meno al mese devo lavorare 23 ore su 24 invece no non è quanto lavori ma è quello che tu fai il valore che tu porti al mercato quando lavori non è io più lavoro più guadagno no io meglio lavoro più valore do al mercato più di conseguenza guadagno veniamo pagati in base al valore che portiamo sul mercato ecco perché le persone non riescono a livello concettuale a capire al cavolo 3000 euro al mese 10.000 euro al mese perché lo vedono come una cosa lontanissima impossibile ok cosa normale perché poi siamo sempre portati dagli impulsi esterni a viro di questo tipo ok i miei genitori non guadagnavano 5 milioni al mese quindi anche per me non è stato facile capire che era possibile andare sopra una soglia di questo tipo però davvero rendersi conto che non è quanto lavori ma come lavori e che il tetto massimo di guadagno e di valore da portare al mercato di conseguenza non è preimpostato ma lo decidi tu scegli tu quanto valore portare e di conseguenza quanti soldi prendere indietro in base al valore e questo questo è fondamentale e senza questo non puoi fare nulla esattamente sono pienamente d'accordo e mi soffermo tanto sul fatto il come lavori cioè lavorare dando spazio a quella che la tua ambizione non apprezzo cioè veramente già solo quello già solo quello il fatto di essere in gioco giocare la tua partita ogni giorno ok la partita contro te stesso quindi cerca di fare meglio del giorno prima e ottenere di più che perché quando lavoravamo in azienda ce l'avevo questa cosa ok di dire caspita voglio migliorare voglio diventare più bravo poi non venivo pagato di più il primo non me lo dava nessuno ok quindi sostanzialmente oggi quello che succede è che faccio un lavoro che mi piace di più ok gratificante che comunque aiuto delle persone a ottenere dei risultati ok risolvo dei problemi a tutti gli effetti e soprattutto è un lavoro motivante ok quindi che ti permette di desiderare cioè desideri di più perfetto lo potete non c'è nessuno che ti blocca e ti dice no puoi guadagnare fino a 4 mila euro al mese dove c'è scritto da nessuna parte e allora facciamo questi questi limiti che ci poniamo da soli grande grande consiglio finale andrea che vuoi dare alle persone che stanno guardando intervista in club in chiusura e se c'è una cosa che ci ferma dal abbandonare una comfort zone è sempre la paura è normale per paura se non avessimo paura saremo dei folli ok però diciamo che la paura man mano che passa il tempo non diminuisce aumenta ok con questo cosa voglio dire fare la scelta mentre magari abitate anche la casa con i vostri genitori oppure mentre ancora non avete dei figli piuttosto non vi siete ancora sposati ok quindi fare una scelta finché non siete ancora all'interno ingabbiati nella ruota del criceto ok e lì avete paura sì ma allo stesso tempo è un tipo di paura differente state certi che se non fate azione veramente schiacciati dalla paura oggi beh domani se rimandate domani sicuramente non cambieranno le cose ma ma peggioreranno la quindi procrastinare non serve a niente fate azione fate azione perché se desiderate cambiare la vostra situazione solo un'azione può darvi un risultato di serie dire che i problemi non si risolvono assolutamente da soli anzi se non si fa azione se non si fa nulla per risolverli non possono parlare che peggiorare e meglio non possono andare fuori nessuna circostanza e penserà a risolvere i tuoi problemi ci devi pensare che sono tuoi e giusto metti venire responsabilità di fare un'azione mirata e concreta per risolverli esattamente poi un'altra cosa che dico e complessa possa anche concludere e che comunque cioè realmente se pensiamo io ho fatto una scelta tra virgolette che da molti può essere vista azzardato mollato totalmente lavoro iniziato il percorso progetto sino mi ci deve fiondare e va beh però realmente cioè la maggior parte delle persone che inizia questo percorso lo fa che sta continuo a lavorare quindi potenzialmente non si tratta neanche di superare chissà quale paura ma si tratta di farsi anche un po' un esame di coscienza e dire caspita mi fa più paura questo passo oppure rimanere così tutta la vita ok così in questa situazione tutta la vita quantomeno mettiti in gioco e prova ad ottenere il risultato che desideri assolutamente sì sì hai detto benissimo anche perché tu hai fatto sicuramente un un passo molto coraggioso estremo se vogliamo in qualche modo abbiamo diverse persone che hanno seguito i nostri percorsi che l'hanno fatto e che chiaramente poi sono impegnate tantissimo però poi c'è anche l'altra parte di persone che chiaramente inizia già un lavoro inizia a portarsi a casa i primi risultati i primi 2 3 mila euro al mese sono cibi assolutamente fattibili anche se sia già un lavoro e poi chiaramente da lì in base a gli obiettivi con una persona i sogni con una persona si capisce in che direzione andata esatto esatto grande grande andre direi direi che ci siamo direi che abbiamo trovato un sacco di argomenti intervista super super mega interessante andre che dire ti ringrazio ti ringraziamo per il tuo tempo super disponibile e tante persone dovranno ringraziare dopo l'intervista che abbiamo fatto perché molto 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 di valore interessante davvero tommy altro da aggiungere 40 mila euro in 45 minuti direi che parla da solo parlano da soli bene bene ragazzi vi ringrazio io perché comunque ecco anche voi fate davvero del bene perché cambiate la vita delle persone io sono quelli che insomma avete aiutato a cambiare apprezziamo questa frase vale più di tutto il resto dell'intervista giusto che devono subirsi tutta l'intervista per arrivare a questa bella finale è verità grande andre gentilissimo fammi sapere come va la call delle sette in quarto a questo punto è un check in realtà già lo so che comprerà quindi in bellezza ciao ragazzi